in un'altra cosa sui figli su cui non c'è davanti alla verdatura provi, provi davanti alla verdatura c'è un gruppo di amici che ci chiedono e dall'altra parte fa una donna davanti alla Virginia questo bello pirà, dice, che fa due da sinop, qua, lì, eccola lì, la ciappana tecci, va con tecci, che roba? Quella questa sui già? No. Ah, sì, ma se no le metto, come metti tutta roba bisnilla? Grazie.